Alle 3.40, lungo il percorso tra Floridia e Siracusa, a bordo di un'ambulanza, è nato un bimbo. La mamma, 29enne, alla seconda gravidanza, in travaglio e corrottura delle membrane, si trovava a Solarino, dove risiede, e inizialmente è stata soccorsa da un'ambulanza base di Floridia, con a bordo soccorritori Franca Correnti e Giuseppe Magnano. Lungo il percorso è stata allertata l'ambulanza medicalizzata, con a bordo il medico Flavio Loverde e l'infermiera Cornelia Denaro, e l'autista soccorritore Nunzio Mallia, che ha effettuato un rendezvous col mezzo base e in corsa verso l'ospedale Umberto I, il piccolo ha visto la luce. Abbiamo solo dato una mano alla natura, racconta il medico Loverde, e tutto è andato per il meglio grazie all'organizzazione, ai mezzi e al personale del nostro 118. Non abbiamo fermato l'ambulanza, non sapendo le condizioni del piccolo e riuscendo a lavorare in movimento, abbiamo continuato ad assistere la partoriente. Ognuno ha fatto la propria parte con professionalità. Il reddiettore generale dell'ASP, Salvatore Lucio Ficarra, esprime grande soddisfazione per il buon esito del soccorso, loda la professionalità dell'equipaggio e di tutto il sistema di emergenza, urgenza. Ha dichiarato poi che nei confronti all'equipaggio e di tutto il sistema, che ha dimostrato anche in questa occasione tempestività, competenza ed efficienza, un compiacimento e un elogio. La mamma e il piccolo, nato e 3,5 kg, accolti nelle parti di ginecologia ed ostetricia e neonatologia dell'ospedale Umberto I di Siracusa, godono di buona salute. Nonostante il numero delle chiamate al 118 sia notevolmente aumentato in queste ultime settimane a causa dell'emergenza Covid, di chi era responsabile del PTE, Gioacchina Caruso, I cittadini possono contare su un servizio efficace e tempestivo per tutte le tipologie di chiamate di soccorso, come ha dimostrato anche in questa lieta occasione, con competenza, celerità, umanità e spirito di abnegazione, che caratterizza tutto il personale del soccorso, dai medici agli infermieri soccorritori, agli autisti nei confronti dei quali va il nostro ringraziamento.